Ciao, nel video precedente abbiamo visto come collegare un microprocessore Zilog Z80 in una breadboard e collegare i pin principali, i passaggi di base per farlo lavorare e come osservare i vari stati di funzionamento. In questo video continuiamo l'esplorazione dello Z80 con i primi passi nella gestione del basso dati. In pratica abbiamo collegato a livello logico alto con delle resistenze di pull up tutti i 5 pin di controllo. Abbiamo collegato a livello logico basso con delle resistenze di pull down tutti gli 8 pin del basso dati. Abbiamo collegato 5 led in corrispondenza dei 5 pin del basso indirizzi corrispondenti ai bit meno significativi e collegato 4 led verdi in corrispondenza di alcuni pin di controllo. Con un Arduino possiamo inviare un clock lento o veloce al microprocessore. Il vantaggio di Arduino rispetto ad altri oscillatori più semplici è controllare in modo più comodo il clock durante gli esperimenti ma appena vogliamo far funzionare lo Z80 con il suo clock normale ovvero alcuni megahertz basta solo sostituire l'Arduino con un oscillatore più veloce magari controllato da un quarzo. Sostituiamo i 5 led del basso indirizzi con due barre led. In questo modo riusciamo a vedere tutti i bit e le barre led occupano anche meno spazio. Avevo già preparato un paio di anni fa questi mille fori con le barre da 10 led. Con uno di questi si possono controllare 10 bit senza difficoltà e con l'altra barra possiamo controllare i bit da 10 a 15. Inseriamo anche un pulsante per poter resettare più comodamente lo Z80 e vedere meglio cosa succede. Lo Z80 attiva inizialmente il solo segnale M1 e dopo mezzo ciclo di clock attiva read e memory request. Questa fase con M1, read e memory request dura due cicli di clock. Per altri due cicli di clock si attiva il meccanismo del refresh. Avendo collegato il bus dati a ground con delle resistenze viene letta dallo Z80 all'istruzione NOP che viene eseguita con quattro cicli di clock. Il bus indirizzi mantiene gli stessi valori sia durante la lettura delle istruzioni sia durante la fase di refresh. In pratica con questa configurazione lo Z80 è un sofisticato contatore binario. Proviamo adesso a inviare un byte particolare nel bus dati. Facciamo avanzare lentamente il clock finché non si attivano ovvero vanno a livello logico basso i segnali M1, memory request e read e blocchiamo il clock. Il bus indirizzi indica la cella di memoria numero 5. Spostiamo adesso le resistenze dei bit 0, 1, 6 e 7 ovvero i pin 10, 13, 14 e 15 dello Z80 da massa a più 5 volt. Facciamo avanzare il clock finché non si completa la lettura ovvero se disattivano i segnali memory request e read ovvero tornano a livello logico alto. Riportiamo tutte le resistenze a massa. Facendo avanzare il clock vediamo che il microcontrollore passa a leggere l'indirizzo di memoria successivo ovvero il 6 caricando 8 bit a livello logico basso cioè il valore 0. Stavolta non si attiva il segnale M1 perché l'istruzione letta in precedenza non è completa. lasciando proseguire il clock lentamente viene letto anche un altro indirizzo di memoria il 7 pure questo a 0. Dopo questa lettura vediamo che il segnale M1 si riattiva insieme ad una nuova lettura dalla memoria. Lo Z80 quindi inizia a leggere una nuova istruzione che sarà una NOP ma stavolta dall'indirizzo 0. La fase di refresh invece viene fatta all'indirizzo 6. L'istruzione successiva di nuovo una NOP viene caricata dall'indirizzo 1 e il refresh all'indirizzo 7. Il codice che abbiamo inviato mettendo il livello logico alto i bit 0, 1, 6 e 7 del basso dati rappresenta un'istruzione di salto. Vengono letti quindi altri due indirizzi di memoria. Il primo viene usato per i bit da 0 a 7 e il secondo per i bit da 8 a 15 del nuovo indirizzo da cui proseguire il caricamento delle istruzioni. Il codice binario 11000011 viene letto anche come C3 in esadecimale e 303 in numerazione ottale e viene chiamato salto incondizionato assoluto. Salto perché viene modificato il successivo indirizzo da cui leggere istruzioni, incondizionato perché viene eseguito sempre e assoluto perché viene specificato in modo determinato il nuovo indirizzo dove prelevare la prossima istruzione. I due byte successivi indicano proprio l'indirizzo a 16 bit. Abbiamo quindi visto l'istruzione NOP codice 0 che viene eseguita con una sola lettura dalla memoria e l'istruzione JUMP, salto assoluto, che richiede tre letture dalla memoria e il nome di questa istruzione fa ipotizzare l'esistenza di salti condizionati e salti non assoluti, ma li vedremo più avanti. Inoltre abbiamo visto che dentro allo Z80 ci sono due contatori, uno per determinare l'indirizzo da cui leggere la successiva istruzione e l'altro per la fase di refresh. Questi due contatori vengono chiamati anche registri. Il primo è chiamato program counter e lavora a 16 bit, contiene l'indirizzo della prossima istruzione da leggere e si può modificare con le varie istruzioni di salto che può fare lo Z80. La fase di refresh invece usa un contatore a 7 bit interno a un registro a 8 bit chiamato R, ma non approfondiamo adesso questa questione. Vediamo adesso come automatizzare la gestione del basso dati. Sui pin da 7 a 10 e da 12 a 15 dello Z80 vengono ricevuti dati, ma a volte anche lo Z80 li può trasmettere. Quando è lo Z80 a trasmettere, ovviamente nessun altro componente deve inviare livelli logici alti o bassi, altrimenti nel caso migliore si disturba la trasmissione, ma più probabilmente si vanno a danneggiare i transistor interni allo Z80. Per inviare dati su questo bus occorrono quindi dei controllori di bus, ovvero dei particolari circuiti integrati che possono attivare e disattivare le loro uscite digitali tramite un segnale di controllo. Ad esempio, il famoso integrato 74HC595 che tutti gli utilizzatori di Arduino praticamente già conoscono, ha un pin chiamato Output Enable che permette di attivare e disattivare le sue uscite e quindi queste potrebbero essere collegate al bus dati di uno Z80 gestendo in modo corretto il pin Output Enable. Di solito però si usano i chip 74HC244 e 74HC245. Nel nostro caso sarebbe più idoneo il chip 74HC244 che contiene due gruppi di quattro buffer. Ogni gruppo può essere attivato in modo separato, ma la disposizione dei pin è un po' scomoda per le nostre attività. Il chip 74HC245 invece permette di unire due bus a 8 bit, scegliendo quando metterli in comunicazione e in quale direzione. I pin sono disposti in modo molto comodo, ovvero ciascuno dei due bus usa 8 pin contigui. Un pin viene usato per decidere in quale direzione trasmettere i segnali digitali e un altro pin abilita il chip. Inseriamo il chip 74HC245 in una breadboard e lo alimentiamo con il positivo 5 volt sul pin 20 e massa sul pin 10. Il pin 1 che decide la direzione lo colleghiamo a 5 volt in modo che i dati sui pin da 2 a 9 vengano copiati sui pin da 18 a 11 quando il pin 19 che abilita la trasmissione va a livello logico basso. Colleghiamo i pin del basso dati dello Z80 ai pin da 18 a 11 del 74HC245, riordinandoli in modo che il pin 18 si è connesso al bit 7 fino al pin 11 connesso al bit 0. In questo modo dal pin 2 al pin 9 abbiamo i bit in ordine. Possiamo collegare a questi pin anche una barra led per controllare quali segnali passano sul basso. Il pin 19 del 74HC245 deve andare a livello basso quando sono a livello basso i segnali read e memory request dello Z80 e viene chiesta la lettura di una cella della memoria collegata ai pin da 2 a 9 del 74HC245. Per il momento possiamo collegare il pin 19 solo al pin read dello Z80 ed affrontare più avanti dei controlli più sofisticati. Colleghiamo i pin 2, 3, 8 e 9 a più 5 volt e i restanti pin da 4 a 7 a massa. In questo modo all'ingresso del 74HC245 ovvero del controllore di bus viene preparato il codice esadecimale C3. Avviamo il clock dello Z80 e provvediamo ad un reset. appena il microprocessore si avvia inizia a caricare una istruzione attivando il pin M1 e leggendo dall'indirizzo 0 ed esegue poi il ciclo di refresh. Prosegue la lettura di altri 8 bit che sono sempre impostati a C3 anche dall'indirizzo 1 e poi l'indirizzo 2. Si può anche vedere che durante la fase di lettura della memoria la barra led sul basso dati mostra i bit inviati dal 74HC245 allo Z80. A questo punto lo Z80 prosegue leggendo una nuova istruzione dall'indirizzo C3-C3. Infatti si riattiva il pin M1 e si vedono tutti i relativi bit nel basso indirizzi. Il refresh viene eseguito invece impostando nel basso indirizzo il valore 1. Vengono letti anche gli indirizzi C3-C4 e C3-C5 e a questo punto l'esecuzione ritorna a C3-C3. In pratica all'avvio viene letta una istruzione che dice di saltare a un certo punto della memoria e in questo punto della memoria viene letta una istruzione che dice di proseguire nello stesso punto della memoria. Ovviamente il microprocessore è in un ciclo infinito, si usa dire un loop senza uscita. Questa istruzione inoltre impiega 10 cicli di clock, 2 per il primo byte, 2 per la fase di refresh, 3 cicli per il byte basso del nuovo indirizzo e 3 cicli per il byte alto. Il ciclo di refresh viene eseguito quindi una sola volta per ogni istruzione e per evitare confusione lo ignoreremo. Proviamo ad aggiungere un integrato 74HC02 contenente quattro porte NOR. Colleghiamo i pin 30 e 31 dello Z80, ovvero i bit 0 e 1 del basso indirizzi, agli ingressi di una porta NOR. I pin 2, 3, 8 e 9 del 74HC245 li colleghiamo all'uscita di questa porta NOR. Resettiamo lo Z80 e vediamo cosa succede. viene letto l'indirizzo 0. I bit del basso indirizzi sono tutti a livello basso, per cui l'uscita della porta NOR è a livello alto e il byte letto è C3, ovvero l'istruzione di salto. all'indirizzo 1 e all'indirizzo 2 l'uscita della porta NOR è basso, per cui il byte letto dallo Z80 è 0. L'indirizzo successivo a cui viene letta l'istruzione diventa quindi di nuovo 0. Facendo avanzare velocemente lo Z80, vediamo che viene eseguito un ciclo infinito attorno agli indirizzi 0, 1 e 2, mentre aumenta solo il contatore del refresh. Ovviamente non si usano le porte logiche per inviare le istruzioni allo Z80, però questo potrebbe essere un esercizio simpatico per non dimenticare come funziona la logica combinatoria. Proviamo a vedere anche un'altra istruzione. Il codice binario è 00011000, in esodecimale è 18 e in decimale è 24. Impostiamo quindi i PIN 5 e 6 del 74HC245 a livello alto e gli altri a livello basso. Resettiamo lo Z80 e vediamo cosa succede. Viene letto l'indirizzo 0. Fatto il refresh e letto l'indirizzo 1. Dopo alcuni cicli di clock viene letto l'indirizzo 26. Fatto un refresh e letto l'indirizzo 27. A questo punto si passa all'indirizzo 52, ma appena letto questo indirizzo cambiamo il codice successivo mettendo a livello alto solo il bit 0. dopo alcuni cicli di clock lo Z80 passa quindi a leggere l'indirizzo 55. Il codice esodecimale 1.8 è un salto incondizionato relativo. Appena viene letto questo codice lo Z80 legge anche l'indirizzo successivo e il byte letto viene quindi aggiunto al valore del program counter. Questo byte in realtà è un intero consegno, quindi con questa istruzione il program counter può avanzare fino a 127 indirizzi o retrocedere fino a 128 indirizzi. Infatti al reset della Z80 è stato letto all'indirizzo 0 il codice 1.8 e lo stesso codice all'indirizzo 1. A questo punto il program counter era pronto all'indirizzo 2, ma al program counter è stato aggiunto il valore 24, per cui il successivo indirizzo a cui è stata prelevata l'istruzione è stato il 26. Qui è stato letto un nuovo codice, di nuovo il salto relativo e all'indirizzo 27 di nuovo il valore 24. Quindi al program counter, che valeva 28, è stato aggiunto di nuovo il 24. All'indirizzo 52 è stato letto un nuovo salto relativo, ma all'indirizzo 53 è stato letto il valore 1. Quindi al program counter, che valeva 54, è stato aggiunto il valore 1, per cui la lettura successiva è avvenuta all'indirizzo 55. Per questo video ci fermiamo qui. Le istruzioni di salto sono usatissime nella programmazione in linguaggio macchina, per cui ho cercato di spiegarle e mostrarle in modo molto dettagliato. Nel prossimo video vediamo qualche altra istruzione molto semplice. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, condividetelo e iscrivetevi al canale. E se avete dubbi o suggerimenti, iscrivetevi nei commenti. Grazie per la visione! Al prossimo video! Ciao a tutti!